benvenuti in questo nostro nuovo video oggi torniamo a parlare di tax credit e cerchiamo di fare il punto della situazione sul credo d'imposta per la formazione 4.0 in occasione del sesto forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili tenutosi il 23 e 24 gennaio 2023 il sottosegretario alle imprese al made in italy massimo bitonci affermò che nei periodi di aprile di maggio sarebbe arrivato un nuovo decreto volto a rifinanziare un complesso di misure con specifico riferimento anche al bonus formazione 4.0 pertanto ad oggi un'ampia platea di contribuenti è in attesa di ricevere buone notizie per quanto riguarda le prospettive future di questa importante misura di beneficio fiscale finalizzata a sostenere le imprese per quanto riguarda gli investimenti volti al consolidamento ovvero allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze necessarie nell'ambito del complesso delle tecnologie abilitanti afferenti al paradigma 4.0 ora fermo restando che il credo d'imposta per la formazione 4.0 ad oggi non rientra fra quelle che sono le misure prorogate al 2023 le rendicontazioni sulle spese sostenute nel 2022 da parte delle PMI richiedono tuttavia un complesso diciamo di importanti accorgimenti dettati soprattutto dall'escursus legislativo che in tempi recenti ha apportato importanti modifiche all'intensità agevolativa dello strumento come noto infatti l'articolo 22 del decreto aiuti è intervenuto sulla disciplina andando a segnare una sorta di spartiacque normativo in modo particolare per quanto riguarda la formazione qualificata e certificata secondo le disposizioni di cui l'articolo 22,1 del decreto aiuti abbiamo un aumento dell'aliquota per quanto riguarda i progetti avviati da parte delle PMI successivamente al 18 maggio 2022 in modo particolare per le piccole imprese l'aliquota passa dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le medie imprese l'aliquota passa dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro rimane immutata l'aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese pari al 30 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro ora quali sono in maniera sintetica i requisiti che devono caratterizzare l'attività di formazione ai fini di questa maggiorazione retributiva innanzitutto i percorsi formativi devono avere una durata complessiva non interiore a 24 ore e potranno essere svolte in tutto o in parte anche in modalità e-learning devono essere le attività devono essere erogate da soggetti qualificati esterni ed è necessario un accertamento delle competenze iniziale e finale mediante il superamento di un test da parte del dipendente partecipante al corso dall'altra parte eh in caso di formazione non qualificata e certificata ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del decreto legge 50 del 2022 è stata prevista una generale riduzione della ehm della liquida contributiva per quanto riguarda i progetti avviati successivamente alla data del 18 maggio 2022 data appunto di entrata in vigore del decreto aiuti in modo particolare abbiamo viene stato stabilito il 40% di ehm aliquota per quanto concerne eh le spese eh ammissibili da parte delle piccole imprese nel limite massimo di eh 300 mila euro per quanto riguarda le medie imprese ehm l'aliquota scende al 35 eh per cento nel limite massimo di 250 mila euro. Ora ehm la eh qual è il nodo problematico che abbiamo sollevato anche in altre eh occasioni? La mancata pubblicazione del decreto direttoriale a cui lo stesso decreto ministeriale rinviava espressamente per la definizione dei criteri e delle modalità di accertamento delle competenze di fatto in questi mesi ha reso inapplicabile la ehm l'incremento delle aliquote ehm sopra richiamate eh trasformando quindi i propositi dell'intervento legislativo volto a rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese in un generale depotenziamento della misura su progetti di formazione 4.0 avviati successivamente eh alla ehm entrata in vigore del ehm del credo crescita quindi a partire dal 18 maggio 2022. Per questi motivi eh venendo quindi a delineare un po' le modalità di rendicontazione del credito maturato nell'anno fiscale 2022 i eh contribuenti sono chiamati ad effettuare la seguente distinzione ovvero per quanto riguarda i progetti formativi avviati entro il 17 maggio 2022 si applicano le aliquote del 2021 previste ai sensi dell'articolo 1,211 della legge di bilancio numero 160 del 2019. In modo particolare come sappiamo per le piccole imprese è prevista un aliquote del 50% nel limite massimo annuale di 300 mila Euro, per le medie imprese abbiamo il 40% nel limite massimo annuale di 250 mila Euro, per le grandi imprese abbiamo il 30% nel limite massimo annuale di 250 mila Euro. Come sappiamo l'aliquota sale al 60% per quanto riguarda le sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Dall'altra parte eh per quanto riguarda i progetti formativi avviati dal 18 maggio 2022 in virtù dei motivi eh appena spiegati si applicheranno ahimè le aliquote depotenziate fermo restando appunto la eh richiamata maggiorazione al 60%. Io vi ringrazio come di consueto e ci vediamo al prossimo appuntamento.